A Cosenza 40 poliziotti della squadra volante, della squadra mobile, della polizia amministrativa ed equipaggi di rinforzo del reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale sono stati impegnati in un'attività di contrasto alla criminalità. Nel corso dell'attività di polizia sono stati controllati numerosi locali pubblici, ritrovo di pregiudicati, effettuati controlli e esercizi commerciali, perquisizione e controlli a persone sottoposte ad obblighi di legge e alla sorveglianza speciale nonché a soggetti notoriamente dediti alla commissione di reati contro il patrimonio. In tutto sono state controllate 250 persone, 130 veicoli e sono state effettuate 8 perquisizioni domiciliari e controllati 10 esercizi commerciali, 3 le persone denunciate di cui una per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e materiale pilotecnico, una seconda per ricettazione in quanto sorpresa alla guida di un ciclomotore con telaio punzonato ed una terza sempre per il reato di ricettazione per il possesso di una carta di identità in bianco provento di furto. Inoltre sono state rinvenute tramite lettore targhe del sistema Mercurio due autovetture rubate e riconsegnate ai legittimi proprietari e sono state inoltre elevate 10 contravenzioni e sottoposte a sequestro amministrativo per mancanza di contrassegno assicurativo due autovetture.